Finita in questo momento Napoli-Sandoria, il Napoli se la porta a casa in attesa stasera della partita della Juventus, Juventus-Parma se non mi ricordo male. Ciao, bella a tutti da me. Parliamo rapidamente della partita, è stata una bella partita, anche se mi è piaciuta di più per alcuni tratti la partita di questo pomeriggio Empoli-Chievo-Verona. Se vi siete persi il post partita, scusate, non ci prendo a parlare, magari andatevelo a guardare perché, insomma, ho analizzato nel dettaglio tutto quello che è successo nello scontro di questo pomeriggio. Per quanto riguarda il Napoli, Napoli che parte a mille, Sandoria che non è partita benissimo, ma poi nel secondo tempo, diciamo paradossalmente parlando, in svantaggio di due reti, ha provato a fare qualcosa. E non mi è dispiaciuta neanche la prestazione della Sandoria. Per lunghi tratti, sti scambi palla, ragazzi, a centrocampo, ma non solo del Napoli, st'aggressività del Napoli mi ha ricordato tantissimo il gioco dei Sarri. Però in panchina, ovviamente, c'è Carletto Ancelotti. Sto Napoli, ragazzi, se gioca così, veramente merita ampiamente il secondo posto in classifica. La sblocca Milik, che c'ho ovviamente al fantacalcio, ma poi di quello ne parleremo perché tanto, come al solito, succedono cose particolari, tipo il calcio di rigore che lo doveva batte lui e invece lo fanno batte a Verdi, ma è giusto anche questo. Stavo sentendo, dicevano, nelle gerarchie Verdi addirittura dovrebbe essere sopra per quanto riguarda i calci di rigore su Milik, quindi va bene così. Lorenzino insegna che si sblocca, non mi ricordo da quand'è che non segnava, insomma, ha ributtato la palla in rete. Per qualche tratto, comunque, ragazzi, la Sampdoria ha gestito il possesso della palla, ma ragazzi, anche sotto pressione la Sampdoria sa far girare la palla veramente benissimo, ha degli ottimi palleggiatori. Qualcosina hanno provato a farla, ma è ovvio che con un Napoli del genere è veramente molto difficile riuscire a fare qualcosa di più. Tant'è che, appunto, ripeto, il risultato secondo me è meritato, Koulibaly sontuoso è veramente un giocatore completissimo, a mio parere. Oggi si è concesso il lusso di affacciarsi per più volte in fase offensiva e a momenti la butta dentro, c'ho contro affantacalcio, tra l'altro, ma va bene così. Vediamo che succederà stasera nella partita della Juventus, lasciate un bel mi piace su questo video, arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio, commentate col vostro parere, condividete il video, iscrivetevi al mio canale. Qualora non l'aveste ancora fatto, ripeto, mi dispiace per Quagliarella, perché sì, ce l'ho al Fanta Calcio, ma anche se non ce l'avessi avuto al Fanta sarebbe stata la stessa cosa. Avrei voluto vedere un gol, assolutamente, però il record c'è e nessuno lo può negare. A più tardi, ovviamente a stasera, col post partita della Juventus. Buona serata e buona cena a tutti. Ciao.